Secondo il mio ultrabracciale, il sigillo è proprio lì di fronte. Dietro questa roccia? No, non c'è niente. Non toccarla! Quello è il cuore del regno. La roccia è in assoluto più sacra del... Ehi, guardate lì! Il simbolo della roccia Mecha. E il sigillo è sicuramente all'interno. Ok, quindi dobbiamo solo spaccarla e aprirla. Spaccarla? Ma è il cuore del regno della roccia. La roccia più sacra del... Spaccala! 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 Ma... Spaccala! 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 Oh... Va bene. Gormiti! Potenza degli elementi! Forza della roccia! Combatti! Torax! Voglio essere il primo a dirlo. Ultra Thorac, spacca! Cuore del regno! Thorac ti saluta! Thorac, abbiamo bisogno di... Spaccarla! Thorac, spacca il cuore! A quanto pare. Sì! Addio, cuore. Ja! Thorac, spacca il furioso! Ok, secondo il bracciale, se proseguiamo sempre su questo sentiero, arriveremo all'ultimo sigillo della roccia. Faremo ancora prima se vengo anch'io. Andiamo, Trek. Seguimi. Reef! L'attacco di Gred farà cedere la miniera. No, non credo proprio. Sembra molto resistente. Attento! Se cadrà anche solo un'altra roccia, l'intero tunnel ci crollerà addosso. Fai attenzione tu! Nessuno su Gorm è più prudente di me! Bene, resta pure qui a giocare con le rocce. Io vado a cercare il sigillo. Guarda! Il sigillo! L'abbiamo trovato! L'ho trovato prima io. Come vuoi, ma adesso lascia fare... Abbiamo attivato i sigilli della roccia, ma dov'è il Gormita Mega? Sì, coraggio, Trek. Andiamo a cercarlo. Stai aspettando il segnale da tanto. Sul regno della roccia, diciamo... La roccia non si muove. La roccia è resistente. E vince sempre. Beh, davvero sciocco e molto noioso. Tutti quanti devono muoversi prima o poi. Giusto, ragazzi? Ragazzi? Aaron, è la missione di Trek. Ed è giusto che la faccia a modo suo. Ma che succede ora? Wow! Visto? Non ci siamo mossi. Abbiamo resistito. Vittoria! Lo spero. Allora, diamoci una mossa. Sembra proprio che questa sia la tua missione, Trek. Ma non c'è niente qui. Benvenuto, guardiano. Se sei qui, significa che hai attivato tutti i sigilli della roccia. In questa sfida finale, il Gormita che sceglierai si scontrerà con un potente avversario. Beh, che tipo di avversario? Per dimostrare di essere all'altezza di comandare un Mecha Gormita, devi prima sconfiggerlo. Questa sì che è bella. Salve, guardiano. Sono Motak. Il Mecha Gormita che è stato assegnato al Regno della Roccia. Motak sembra imbattibile. Ci penso io. Pronto a combattere? Penso di sì. Finalmente la Rocca Macigno, casa degli sloggu più deliziosi di Gorm. È bello essere di nuovo qui. Trek, dove sono tutti quanti? Non lo so. Vediamo. Ehi, ma che cosa stai facendo? Dico a tutti che siamo qui. I rocciosi sanno comunicare fischiando. È davvero perfetto per mandare messaggi nel deserto. Ah, forte! Anche Aaron è qui. Shhh, ascolta. È Siran. Che cosa ha detto? Ha detto, uscite immediatamente dalla rocca. Chissà come mai. Ecco la tua risposta. Fuori, fuori, fuori! Ragazzi, sono qui! Ehi, Siran, che succede? La Rocca Macigno ha perso potere. Non è più un posto sicuro. Ma perché? Che sta succedendo? Questa è l'opera dei Darkan. Poidus sta usando il cristallo Mecha per rubare l'energia. degli elementi del regno è indebolire la Rocca. Dobbiamo immediatamente disattivare il cristallo. Chi è il tuo grosso amico lucente? Siran, ti presento Motak. È uno dei leggendari guerrieri Mecha. Lui ci aiuterà a sconfiggere il cristallo. E come dice lui, è meglio farlo immediatamente. Guardiani, andiamo! Vengo anch'io! È il mio regno! Vi aiuterò a difenderlo. Siran, non ti rendi conto di quanto il cristallo possa essere pericoloso. Già, e UltraGrad è un po' fuori di testa, oltretutto. Ragazzi, quel cristallo proviene dall'interno del cuore del regno. Non ricordate la storia? I saggi ce l'hanno raccontata. Un minuscolo sassolino... Può causare una grossa frana. Mi ricordo bene, ma... Magari sono io quel sassolino. Senti, è fantastico, ma questa è una missione per i guardiani di Gorm, la custode della torre degli elementi e il leggendario guerriero Mecha della roccia. E dobbiamo agire al più presto. Trek, non lo senti anche tu? Sono io il sassolino. I sigilli mi hanno insegnato a seguire l'istinto, ma non riuscirò a convincere gli altri, perciò... Resta al sicuro, ma tieniti pronta, d'accordo? Certamente. Trek! Muoviti! Il cristallo Mecha è corrotto dall'oscurità. Per lui siamo dei nemici. Procediamo con cautela. Sì, lo sappiamo. Gormiani, al riparo! Schiva la roccia! Adoro questo gioco. Sequenza di disattivazione del cristallo iniziata. Wow, è davvero forte! È un vero campione di schiva la roccia. Lo ridurrà... Lo scudo di Aoki non resisterà per molto. Dobbiamo sconfiggere i soldati di roccia o sarà la fine. Andiamo, Trek. Ricorda ciò che hai imparato. Fidati del tuo istinto. Un minuscolo sassolino... Ci sono! Dobbiamo riuscire a far cadere quelle rocce sopra i soldati! E come? Siamo in trappola. Lasciate ai rocciosi le faccende rocciose. Ma cosa fai, Trek? Basta fischiare, concentrati! È la fine! Siamo spazzati! Siran! Evviva! Rocciosi pronti al salvataggio! Sapevo di essere il sassolino. Ecco che arriva la grassa frana! Che cos'è? Credo che farà male! Brava, Siran! Ora sono pronto! Ultra concentrazioni! Ora sentirai la vera forza della roccia! Tu non puoi battermi! Sì, Trek! L'hai pietrificato! Ehi, dov'è il cristallo meca? Il momento della disattivazione è giunto! No! Motak! Va tutto bene, giovane guardiano. Il guerriero meca proteggerà il cristallo fino alla sua prossima missione! Poi non sono un po' più corromperlo! E Gred ci rimarrà infrigionato dentro! Hai dimostrato di avere molto coraggio, Trek! Io ti rendo onore! Per voi il cammino è ancora molto lungo! Vi auguro buona fortuna! Grazie a tutti! Grazie a tutti!